Musica Bene eccoci insieme anche oggi. Mi verrebbe da dire che il nostro ospite è una vecchia conoscenza del mondo artigiano, in particolare in quello della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, dove più o meno ha ricoperto quasi tutte le cariche. Adesso è responsabile della CNA Professioni Metropolitana di Venezia, quindi si occupa di lavoro indipendente. E un primo dato interessante da cui partire è che il lavoro indipendente, l'occupazione indipendente in Italia dopo la crisi è diminuita del 3,9%. In questo ambito, dove sono ricollocati imprenditori, lavoratori in proprio, quadruvianti familiari, soci di cooperativa e collaboratori, tutti questi hanno un meno davanti. L'unica categoria che invece è cresciuta, addirittura del 30% circa, sono proprio i liberi professionisti. Allora, possiamo innanzitutto mettere i paletti della libera professione? Sì, la libera professione è stata, diciamo, schematizzata dalla legge 4 del 2013, apposita, è da lì che è nato CNA Professioni, e si intende per professione chi fornisce servizi, un'attività economica evidentemente, a chi fornisce servizi a terzi usando, diciamo, prevalentemente lavoro intellettuale. Quindi è una situazione un po' generica, se vuoi però, rispetto all'artigiano invece che usa... Infatti, volevo arrivare là, ormai CNA, che sarebbe l'acronimo di Confederazione Nazionale dell'Artigianato, ormai è diventato una sigla a sé stante, che infatti mi pare che nel corso degli anni sia anche cambiata l'addizione completa, CNA delle piccole imprese, perché in effetti si è partiti dall'attività manuale, adesso invece c'è una categoria specifica per l'attività intellettuale. Esatto, esatto. Fra l'altro, nell'occupazione dipendente, vedremo magari passare anche alcune tabelle, l'Italia è tra i primi posti, perlomeno in Europa. Sì, sì. Vedo che... Eh, io devo prendere la tabella, ma... Ecco, questa è per esempio la tabella dell'occupazione dipendente nei paesi dell'Unione Europea. Esatto. Quella rossa è l'Italia, ed è quella dove ce n'è di più, 4720, non so che cosa, ma insomma, vuol dire, pari al primo posto in Europa, 10,6% adesso lo ho detto. Ecco, questo è importante. Detto questo, magari anche con altre tabelle vedrete l'istogramma relativo all'Italia è sempre il primo se non il secondo, quali sono le professioni di cui adesso vi occupate? Perché ce n'è una che mi è stata detto che è sorprendente, la doula. Sì, poi ne parliamo. Evidentemente, allora, ci occupiamo delle professioni non ordinistiche e quindi quelle che nella legge 2013 sono state definite in qualche modo e che avevano bisogno di rappresentanza. Avevano bisogno di rappresentanza ancora prima che di servizi, avevano bisogno di avere un certo peso per poter discutere di alcune cose legate a, per esempio, la maternità, perché gran parte di questi liberi professionisti sono donne. Sono donne, sono donne, per esempio. E poi c'era la gestione separata dell'Inps, che si presumeva dovesse passare addirittura dal 27 che era al 28 e poi al 31, grazie a noi posso dire. E' successo esattamente il contrario, adesso la gestione dell'Inps riguarda, per chi paga, fa la libera professione, è del 24%. Ecco, queste libere professioni sono 35, quelle che sono state normate. Quelle che abbiamo noi come iscritte a questa sfera che si chiama CNA, professioni, sono 35. Lo dico perché la legge è del 2013, ma cinque anni nel mondo del lavoro sono un'eternità, tant'è che tra le professioni non c'è il rider, che è una professione che è diventata, diciamo, di larga conoscenza. Ecco, noi abbiamo affiliato, diciamo, già associazioni esistenti evidentemente, che però come singole associazioni avevano poco peso politico. Cioè, facevano fatica ad andare a discutere di problematiche e quindi dovendo approcciare almeno dei problemi molto generali, conveniva unire tutto questo assieme di professioni che sono incredibili. Questa professione, la doula, neanche sappiamo che cosa sia. Devo dire che avendo frequentato il mondo artigiano avevo scoperto il lotempore, il norcino che non conoscevo, ma la doula ancora adesso non so chi sia. Fra l'altro mi colpisce che in periodo in cui si discute molto di sessismo anche nelle professioni, questa è una professione femminile perché la doula. Sì, 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 è decisamente una professione legata all'assistenza pre e post parto. Evidentemente non di tipo farmacologico o di tipo medico, ma di supporto, diciamo, sostegno al parto. Diciamo che è una versione più specializzata del cancelo in generale. Il cancelo è un mediatore, è un risolutore di problemi. Quindi, ecco, in questo caso, questa figura professionale nuova, in un certo senso, assiste la parto oriente. No, la guarda un po' basito, perché mi viene in mente quello che ha detto prima, dice, sono professioni che dal punto di vista numerico non hanno una grande consistenza. Ma quanti sono i doula in Italia? Ah, non ho idea. Non te lo so dire, non te lo so dire. No, sono di più, sono di più perché hanno una struttura, quindi non so, saranno 150, 200, ecco, però potrei anche dire cifre. No, ma immagino questo professionista che dica buongiorno, sono una doula, tu d'oula, chi? Il principio è che l'assistenza alla persona sta diventando, in una situazione di sufficiente benessere, sta diventando sempre più importante e quindi ha varie forme e varie specializzazioni. Mestieri che verranno fuori dei mestieri, chiamiamoli mestieri, ma chiamiamoli se vuoi professioni, in cui, che ancora non riusciamo a immaginare, no? Nel campo dell'informatica, sappiamo, no, del web, dell'internet, eccetera, sappiamo che cinque anni fa, cose che sono successe in questi cinque anni, cinque anni fa non riusciamo neanche a immaginare. Ecco, ma anche nel campo dell'assistenza alla persona, per esempio, che è uno dei campi importanti di questo gruppo di professioni. Io la conosco come persona seria, ma adesso la metto in difficoltà. Ma perché si chiamano doula? Allora, io lo so, deriva da una parola greca, antica, che nel greco, ho letto su Wikipedia, quindi andiamo su Wikipedia, caso mai, che nel greco moderno tende a essere un po' svilente, ma nel greco antico era chi si occupava soprattutto nei problemi di allattamento. Quindi assisteva la partoriente, o la nuova mamma, quando questa aveva problemi nell'allattamento del bambino e quindi gli dava una mano. Chapeau, non sono riuscito a prenderla in castagna. Ci sorprende con altre professioni in cui avete dato un riconoscimento organizzativo? Allora, i fisici professionisti, cioè i laureati, tenete presente che il 54% di queste nuove professioni, per il 54% di queste nuove professioni sono almeno laureati. Quindi il livello è elevato. Solo il 4% risulta avere scuola media. Il resto, diciamo, si varia tra percorsi specifici e percorsi fisici sicuramente. Gli arti terapeuti. Chi? Arte terapeuti. Quelli che fanno terapia attraverso l'espressione artistica. Ma dai! Ti insegnano. Ah, pensavo a quelli che curavano le fratture. No, 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 no. I musicoterapeuti. D'accordo. E quindi capisci che ci sono degli ambienti, diciamo, di approccio al benessere e all'armonia della persona che una volta non venivano presi tanti in considerazione. Anche per invasione, secondo me, insomma, per conoscenza più che invasione, perché non è la parola corretta, di una cultura, la cultura orientale ormai è diventata un po' patrimonio anche nostro, no? E quindi un approccio allo star bene è diventato più sofisticato, che non è solo fisico. Ecco, una delle caratteristiche della CNA, insomma, delle organizzazioni di categoria, è quella, in qualche maniera, di dare anche una sorta di patente alla professionalità dell'associato. Nel caso specifico riuscite, immagino, a controbattere, suppongo anche un certo abusivismo che potrebbe esserci su professioni assolutamente poco conoscute? Sì, 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 non è così semplice perché c'è tutta una procedura che riguarda, diciamo, il principio della qualità uni, dentro la quale per mantenersi bisogna comunque sempre assolvere a tutta una questione molto burocratica. Ecco, però, una delle cose più recenti, proprio ricevuta qualche giorno fa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha iscritto CNA Professioni nell'elenco delle strutture a cui rivolgersi per un certo tipo di problematica. e l'altro dato importante, secondo me, è che nell'attività, allora, se tu pensi agli imprenditori autonomi, agli lavoratori autonomi, di cui fa parte e di cui sono solo il 25%, 20% i liberi professionisti non ordinistici, sono ben 5 milioni in Italia. e danno lavoro a 17 milioni di persone, per cui in totale questo comparto occupa 22 milioni di persone. Non sono mica poche? No, proprio niente. Poi sappiamo che il Veneto è una delle regioni dove la piccola azienda, no, o il singolo imprenditore è la situazione più diffusa, anche se i liberi professionisti, in Veneto sono circa, questi non ordinistici, sono circa 25 mila, in Lombardia sono quasi 65 mila, che è la regione più ampia. Grazie a Gabriele Zuppati, il dirigente, il rappresentante artigiano che non va mai in missione e riesce sempre a reinventarsi qualcosa di nuovo, guarda sempre al futuro. In questo caso è responsabile della CNA Professioni, sì, della CNA Professioni Metropolitana di Venezia. CNA originariamente era Confederazione Nazionale di Artigianato, tale rimane, ma ha ampliato il proprio spettro d'azione alla piccola impresa e anche alle libere professioni. Grazie, alla prossima. A te. Grazie.